il testosterone viene prodotto a livello dei testicoli sotto il controllo dell'ipofisi e dell'ipotalamo e agisce su tanti organi se ben vedete agisce sulla pelle modula la crescita della barba la caduta dei capelli agisce sulle ossa fa crescere le ossa la massa muscolare e fa crescere anche i testicoli il pene la prostata quindi ha un impatto importantissimo sull'uomo è l'essenza e la benzina per l'uomo quasi tutti gli uomini a partire dai 40 anni producono meno testosterone è un processo naturale fisiologico sono poi solo pochi gli uomini che avranno una condizione patologica cioè che la produzione del testosterone è insufficiente affinché l'uomo tra virgolette funzioni bene normalmente su 100 uomini sono solo 5 1 su 20 avrà una penuria sintomatica del testosterone può causare dei disturbi dei malfunzionamenti a livello della sfera sessuale quindi un calo del desiderio sessuale un calo della libido problemi di reazione nell'anziano problemi di fertilità è meno è meno problematico comunque una minore produzione di sperma di spermatozoi sono degli indizi della possibile mancanza di testosterone altri sintomi sono dei disturbi di carattere neurovegetativo cosa vuol dire quello che succede alle donne quando sono in menopausa quindi di per sé nell'uomo anche lì ci sono mancanza del testosterone causa sudorazioni arrossamenti della testa momenti di calore traspirazione notturna e anche così stanchezza a faticabilità precoce a dinamia un pochettino di depressione sono dei sintomi a livello neurovegetativo il testosterone agisce sul cervello quindi se manca il testosterone possono esserci dei disturbi cognitivi che non sono specifici perdita della memoria della concentrazione umore un pochettino depresso agisce sulla muscolatura manca il testosterone quindi vediamo che un'atrofia muscolare perdita della massa muscolare le ossa si indeboliscono diventano meno robusti sono più fragili e soprattutto a livello della pancia la pancetta anche un po può essere anche un indizio della carenza dell'ormone maschile del testosterone dal punto di vista clinico questa condizione di ipogonadismo senile si chiama perché di per sé non è una vera andropausa si chiama nipogonadismo lo si scontra soprattutto nei pazienti obesi i grandi obesi i diabetici o pazienti che purtroppo hanno delle malattie sistemiche o dei malignomi delle malattie tumorali hanno spesso anche una carenza dell'ormone maschile del testosterone quindi per la diagnostica è fondamentale sintomi associati a una carenza dimostrata del testosterone è importantissimo escludere anche una patologia concomitante perdiamo peso più movimento e questo contribuisce in maniera fisiologica naturale e spontanea senza assumere nessuna sostituzione ad incrementare il tasso del testosterone e portare a un beneficio al paziente che si sente meglio migliorare la sua qualità di vita nel caso che queste misure di cambiamento di stile di vita non abbiano effetto che siano insufficienti allora possiamo procedere alla terapia di sostituzione dell'ormone la prima scelta è l'applicazione sotto forma di gel è un gel che viene applicato tutte le mattine quotidianamente di preferenza sulle spalle o sull'addome mai sul genitale e questo aumenta comporta il gel viene riassorbito e porta un aumento del testosterone nel sangue che poi a sua volta agisce in tutti gli organi le alternative alla sostituzione allo gel ci sono per esempio delle pastiglie o delle iniezioni che in questo caso sono meno indicate perché sono più difficili da controllare eventualmente da sospendere la terapia se dove esserci effetti esserci effetti collaterali è uno romone potentissimo e una terapia inappropriata cioè fatta in assenza di penuria potrebbe avere degli effetti deleteri sulla salute potrebbe aiutare a causare disturbi che potrebbero mettere a repentaglio la salute dell'uomo quindi evitare il fai da te non facciamo gli sportivi che fanno il doping che è proibito perché si sappiamo che potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità di vita invece di dare un beneficio al paziente renderlo più felice migliorare la vita potrebbe peggiorare il tutto